Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Carissimi, quest'oggi partiremo con un nuovo capitolo, capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, versetto 1 al versetto 17. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare. Una grande folla si radunò intorno a Lui, cosicché Egli, salito su una barca, vi sedette, e tutta la folla stava sulla riba. Egli parlò loro di molte cose in parabole, dicendo «Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli venero e lo mangiarono. Un'altra cade in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma levato se il sole fu bruciata, e non avendo radice in aridì. Un'altra cade tra le spine, le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cade nella buona terra e portò frutto, dando il cento, il settanta e il trenta per uno, che ha orecchi per udire Oda». Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero «Perché parli loro in parabole». Egli rispose loro «Perché a voi è dato il conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha, sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha, sarà tolto anche quello che ha». Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono, né comprendono. E se adempio in loro la profezia di Isaia che dice «Voi udrete e non comprenderete, guarderete e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore e non si convertano, e io non li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono, i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono». All'inizio del capitolo vediamo come Gesù lascia casa. Molt probabilmente questa era la casa di Pietro e in questo giorno lui va a farsi una passeggiata sulla spiaggia. Mi piacerebbe un sacco questo tipo di ministerio dove predichi da una barca per pescare anime e poi salti in acqua per prendere la cena. Scherzi a parte, leggiamo che poco dopo Gesù parla in parabole alla folla che si forma intorno a lui e come abbiamo discusso in precedenza, d'ora in poi ha finito con i farisei e gli opportunisti. Quindi parla in modo che molti di loro non capiranno se non quelli che hanno un cuore genuino aperto alla verità. Allora cosa sono le parabole? Sono state definite come storie terrene con un significato celeste. E questo in particolare la vedremo domani, il significato lo vedremo domani perché Gesù stesso ce lo spiega. Ma abbiamo già sentito questa frase, la sentiremo ancora più avanti. Gesù praticamente intende dire che quelli di voi che hanno un intendimento spirituale prestino attenzione a ciò che sto dicendo. È interessante anche che i discepoli chiedono a Gesù perché parli loro in parabole, come se si chiedessero perché stesse rendendo questo insegnamento difficile da comprendere solo agli altri, mentre loro ne capivano il significato. I discepoli capiscono le cose che Gesù dice loro perché Dio ha dato loro il potere di capire. E questo è come il credente di oggi che ha lo stesso potere di comprendere le scritture mentre un non credente lo considera una follia. E mi viene in mente una scrittura in Primo Corinzi 2,14 dove dice «Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente». William Barclay, che era un professore scozzese di critica biblica e anche un commentatore biblico, scrive «La parabola nasconde la verità a coloro che sono o troppo pigri per pensare o troppo accecati dal pregiudizio per vedere. Mette la responsabilità in modo equo e diretto sull'individuo. Rivela la verità a chi desidera la verità e nasconde la verità a chi non vuole vedere la verità». Così il messaggio del Vangelo può umiliare un cuore aperto portandolo al pentimento, però allo stesso tempo indurire il cuore dell'ascoltatore disonesto, portandolo sempre più in là sulla via della disobbedienza. Gesù dice anche «A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza».». In sostanza sta dicendo che se tu apri il cuore a ciò che Dio ti sta insegnando, Dio ti insegnerà sempre di più e di più e di più fino all'abbondanza. E questo è in contrasto con quanto ha profetizzato Isaia, dove dice «Voi udrete e non comprenderete». Ora, per prima cosa notiamo che le persone odono. Quindi potresti dire «Beh, stanno cercando di ascoltare, di capire». Tuttavia se leggiamo oltre, andiamo avanti, vediamo che il profeta dice che «poiché i loro cuori sono induriti, sono duri d'orecchio e i loro occhi sono chiusi, queste persone sono chiuse a ciò che Dio sta dicendo loro». Praticamente non imparano le vie di Dio perché non vogliono imparare le vie di Dio. Ora, in contrasto, i nuovi discepoli e coloro che volevano imparare erano considerati beati perché stavano sperimentando ciò che i profeti dell'antichità avrebbero voluto vedere. Cosa possiamo trarne per oggi? Manteniamo i cuori puri e malleabili verso il Vangelo, per poter vedere con occhi spirituali quelle cose che l'uomo carnale non può vedere. Signore, la mia preghiera è che ognuno di noi mantenga un cuore tenero nei tuoi confronti affinché lo Spirito Santo possa continuare a guidarci e non indurirci a quello che ci comunica. Trocchidiamo nel nome di Cristo. Amen. Beh, ragazze e ragazze, anche oggi abbiamo concluso. Grazie di nuovo dell'ascolto e ci sentiamo domani. Ciao. Grazie.